Viva Garcelli e questo stupendo carnerale, buona serata a tutti! Bravissimo, 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 conciso, saremo velocissimi! Che proposta! Se riusciamo ad essere velocissimi! Come facciamo ad essere velocissimi? E ci abbiamo... il sindaco, se ci riesco, il sindaco... Se riesce ad avvicinarsi, non è costato, il sindaco... Se lo trovo, eccolo qua! Prego! Allora, eh! Viva il carnevale, viva Garcelli! Complimenti a tutti quelli che hanno spiato i carri e a tutti quelli che tutto l'anno si occupano del carnevale! Un grazie a Cesaro, un grazie a Giulio Prezzi, viva la bella maina e il vicciolano, viva Garcelli, grazie! Grazie! Grazie a Grea! Cioè, voi non siete mica con... In che situazione ci troviamo? Dove è che... Io sarei il presidente della provincia, Renzo Maggio Ero! Sì, se lo trovi, ecco qua! Siete davvero fantastici tutti! Prima che mi rientrano, vi dico viva il carnevale e viva il Marcelli! E viva il Cicciolano e viva la Marisa! Non è possibile! Chi c'è adesso? Allora, Chetty, che è il Cicciolano e vieni! Eh no, li trovano i coriandoli, guarda per terra! Allora, Chetty, vai tranquilla, non succede niente! Vado! Vai, vai! Può cannevale a tutti e rivederti! Sì! Ma come puoi venire? Ma puoi venire? Allora, c'è la nebbia, sì? Massimo, signor! Vieni, no, per noi! Buon cannevale a tutti! Viva Garcelli! E il microfono sbuca tra la nebbia e i coriandoli! E la neve! Dove sono otti i piedi, no? Tocca i piedi, vieni, vieni! Sì, sì! Viva il Cicciolano! Allora, Lola è qua, è qua il pastore del comando! No, no, a te per la maestra, te le ha i mali! Io posso dire una cosa? Attentivo! Non posso! Esista, non parlare! Giulio, aiuto, chi chiamo qui? Allora, no, stavo dicendo! L'animalino! Noto che vi state divertendo in una maniera... L'animalino! Il Presidente del Consiglio Comunale! Come non c'è? Vieni, vieni! Non c'è, buonasera a tutti! Come? La braccia, la braccia è buona! Tu capriola, eh! Tocca, tocca! No, ma non hai ancora parlato, non puoi poterlo! No, 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 non mi... Ma vieni, Gianni, che mi salutare! Guarda quanta bellissima gente che c'è qui! Guarda, che gente meravigliosa che abbiamo! Veramente! Impegnato! Come faccio, aiuto! Non pensiate che stiamo figgendo! Quì stiamo soffrendo! Stiamo veramente soffrendo! prendo il tutto e per tutto perché, momento, già ne hai parlato, no io non ti ho sentito, non ti ho sentito, cosa fate? No, non proteggerlo, non proteggerlo, no ma cosa fai? Non ti proteggi, devi girarti verso il pubblico, non puoi parlare verso di me, parla verso il pubblico, tu non puoi parlare verso di me, devi guardare di là, loro guardano il proscello su cui siamo noi e tu parli verso il pubblico, parla, che quello di Narseli è il quinto carnellale d'Italia, ma quello che veda stasera è il più bello, bravi, complimenti a tutti, buon carnellale il più coraggioso, devo dire il più coraggioso, nonostante tutto ha fatto un bellissimo discorso, è vero, siete tantissimi, siete stupegni e meravigliosi, no, mi è sicurato, mi manca? Abbiamo fatto parlare tutti, Giulio, cosa facciamo? Giulio, allora un attimo signori, torniamo se possibile, un attimino alla nostra, ma bisogna non parlare, bisogna non parlare, bisogna non piccolare, non parla, sarà stato, se riesco, ma io la piccolare non la fermo, ma io voglio parlare, parlano anche dopo, va bene.